Restando in tema di prevenzione, ritiene che attualmente la chirurgia guidata possa essere un mezzo in più per minimizzare le complicanze chirurgiche? Assolutamente sì. Ritengo che questo nuovo strumento consenta oggi di avere informazioni dettagliate al momento della formulazione del piano di trattamento. È una metodica che consente di avere notizie e informazioni in merito allo spessore dei tessuti duri, dei tessuti molli e quindi ci consente di fare un piano di trattamento nel rispetto di tutti quei principi biologici che conosciamo. Dal punto di vista operativo e pratico poi il fatto di avere degli strumenti come le guide chirurgiche sicuramente rappresenta un sicuro vantaggio per l'operatore perché il fatto di posizionare un impianto a mano libera rappresenta sempre un rischio in termini di posizionamento finale dell'impianto. Quindi l'unione delle possibilità diagnostiche e di planning unita alle possibilità terapeutiche rendono sicuramente la chirurgia guidata una metodica che è affidabile, predecibile e sicuramente un ausilio per ridurre le complicanze intraoperatorie.